Sei ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo FastWebStore? In Corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni! Si è riunita ieri mattina a Palazzo di Città la Commissione Mobilità e Sicurezza. All'ordine del giorno, l'aggiornamento del Piano della Sicurezza Stradale Urbana con interventi urgenti di messa in sicurezza da realizzare sulle principali arterie cittadine e le strategie e i criteri di intervento per il nuovo piano del traffico. Infatti alla riunione ha preso parte anche l'ingegnere Claudio Troisi, curatore del piano traffico nella città metelliana. Come già dissi in Consiglio Comunale la volta scorsa, l'ingegnere Troisi, che è incaricato dall'amministrazione di redigere il nuovo piano del traffico, lo ha portato adesso all'attenzione della Commissione Consigliare Competente, presieduta dall'Avvocato De Filippis. Sta facendo vedere tutta la progettualità che sarà messa in campo per mettere in sicurezza tanti punti critici sul territorio di Cava dei Tirreni, incroci e quant'altro tipo, tanto dichiarato, incrocio di Via Via Marconi con Via Martelli Castardi e così tanti altri. E naturalmente dalla Commissione, quindi dai consiglieri comunali, verranno suggerimenti per eventualmente altri punti critici del territorio di Cava dei Tirreni che sono stati eventualmente trascurati. Quindi stiamo in itinere, in dirittura di arrivo si può dire, e fra poco porteremo in Consiglio Comunale per l'approvazione del nuovo piano del traffico e metteremo in sicurezza tutti i punti critici della città. A dirigere i lavori della Commissione Consigliare Mobilità e Sicurezza, il consigliere Federico De Filippis, il quale ai nostri microfoni ha illustrato i punti principali affrontati nel corso della riunione della Commissione. Sì, abbiamo deciso di fare questo incontro per verificare quale è lo stato dell'arte attualmente a Cava dei Tirreni e fare delle proposte, portare delle proposte in Commissione e poi ai tecnici e ai dirigenti per agevolare sia il traffico sia la sosta dei veicoli. Sappiamo che la città ha bisogno di uno slinimento sia della circolazione urbana sia della circolazione intorno alle frazioni. Con la Commissione di oggi alla quale ha partecipato l'ingegnere Troisi è stato mostrato quello che è stato fatto dal 2002 ad oggi e quello che in realtà vogliamo realizzare per i prossimi anni. In particolare si è discusso di un argomento che è caro a tutti quanti, la sicurezza stradale, la sicurezza di arte e mestieri. Stiamo cercando di trovare degli accorgimenti lungo via arte e mestieri che sappiamo che è una direttrice di Cava dove purtroppo sono stati frequenti gli incidenti. Un altro aspetto importante che è stato toccato dalla Commissione è quello che riguarda il piano sosta. In particolare la necessità che molti commercianti hanno lamentato è quella di aumentare i posti auto all'interno del centro cittadino. Soprattutto con la chiusura del parcheggio del Trincerone, con l'apertura del parco urbano dove si andranno a ridurre i posti auto ci stiamo già adoperando per trovare delle soluzioni alternative. L'intenzione è quella di agevolare sia il parcheggio negli orari in cui sono aperte le attività commerciali sia quelle in cui le attività commerciali sono chiuse e quindi agevolare la movida e quindi le attività di ristorazione dei locali che comunque vede Cava come un punto di riferimento, un centro all'interno di tutta la regione, la regione Campania. La commissione di oggi è stata convocata anche per fare chiarezza su quelle che sono le criticità in zona ASI proprio perché sono disponibili molti fondi da parte dell'ASI riteniamo che il comune potendo attingere a questi fondi possa dare dei servizi ai cittadini senza aggravare ulteriormente le casse comunali e avere dei benefici che potrebbero essere utili per la collettività.